Il liceo artistico Giovagnoli e l'istituto professionale Buitoni presentano la loro vasta gamma di percorsi formativi in un'offerta sempre più innovativa e concreta. Fashion design del gioiello e tessuto, architettura e ambiente, grafica, manutenzione e assistenza tecnica, produzioni industriali e artigianali, servizi sociosanitari, odonto tecnico, Il tuo futuro è in te. Il tuo futuro è in te. Il tuo futuro è in te. Gli artisti e i professionisti di domani scelgono liceo artistico Giovagnoli e istituto professionale Buitoni. Il tuo talento nasce con te e cresce con noi.